Compie 60 anni la Filmoteca Vaticana, il luogo della memoria cinematografica della Santa Sede, un'istituzione che custodisce 8000 titoli, a cominciare da Leone XIII nei Giardini Vaticani, il primo Papa immortalato dalla macchina da presa nel 1896. Proprio questa capacità, chiamerei profettica, di rendersi conto che si trattava di un nuovo mezzo, neutro in se stesso, ma dalle grandi possibilità, dalle grandi opportunità che poteva offrire proprio anche per l'annuncio del Vangelo. Il percorso, presentato in una conferenza stampa all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ruota attorno ad un libro. Si intitola Il Cinema dei Papi, documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana, ed è stato scritto da Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Questo libro di Monsignor Viganò è un libro molto interessante, proprio perché attraverso la ricerca che lui ha fatto negli archivi vaticani, mette in luce il rapporto che c'è stato dei Papi, a partire da Pio XII e dai Papi successivi, con questi nuovi mezzi di comunicazione e soprattutto con il cinema. Un rapporto che si concretizza nella Filmoteca Vaticana, voluta da Giovanni XXIII nel 1959. Possiamo dire che da Giovanni XXIII, indietro nella storia, abbiamo un rapporto tra chiese e cinema che è dettato da quella che io chiamo la doppia pedagogia, cioè da un lato sostenere, benedire, incoraggiare, dall'altro anche però richiamare i valori morali, in qualche modo anche censurare, pensiamo alla legione della gescenza negli Stati Uniti d'America. Con Giovanni XXIII in qualche modo cambia questo rapporto, anche perché cambierà di fatto con il concilio, con il nuovo rinnovato rapporto tra chiesa e mondo. Il volume, edito da Marietti, ha ispirato una collana composta da sei brevi documentari che verrà pubblicata online su Vatican News il prossimo 16 novembre. Un'iniziativa del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, realizzata da Vatican Media e Officina della Comunicazione, con l'obiettivo di favorire la conoscenza della Filmoteca Vaticana anche nell'ambiente digitale. Il linguaggio delle immagini è il linguaggio del nostro tempo, in maniera diversa di come l'ho sempre stato nella storia dell'umanità e nella storia della Chiesa. Quanto la Chiesa ha comunicato attraverso le immagini e quanto le immagini dicono della storia della Chiesa, della storia del cristianesimo. Penso che conservare queste immagini, conservare la memoria come radice di un futuro sia parte della nostra missione.